Con Piero Franchini su Arpensaci per riportare nella nostra provincia i problemi che poi sono nazionali anche perché non si parla di ripresa, si parla di suicidi per mancanza di lavoro, per mancanza di speranze, per fallimento, insomma si torna all'America della crisi nera e l'ultima notizia della quale vorrei parlare con Piero è questa delle dimissioni di Giovannini che era colui che era preposto ad una commissione per uniformare, se non sbaglio poi mi correggerai, le retribuzioni dei politici e degli altri dirigenti italiani a quelle alla linea europea. La scusa della dimissione è stata che non riuscendo a trovare i parametri era inutile che la commissione esistesse, ho riassunto bene? Sì, dunque praticamente questo è quello che è apparso su tanti giornali mentre su qualcuno invece è apparso forse la verità e cioè che praticamente i dati non arrivavano quindi erano dati così confusi perché onestamente non c'è nemmeno certezza degli stipendi che effettivamente prendono i nostri signori parlamentari che tra l'altro ieri ho sentito due o tre che ne hanno parlato dicendo che noi quasi quasi ci dovremmo vergognare di avere i parlamentari più poveri dell'Europa. E quindi ecco, di fronte a ormai un'abitudine quasi giornaliera di vedere gente con la pensionata che si butta dalla finestra perché gli avevano tolto i 200 euro e ne prendeva 800, non è che ne prendeva 800, no, 1.800 euro al mese e quindi gli hanno tolto i 200. E' caduto a Gela per chi non lo ricordasse. Sì, poi dopo di alcuni due, in questi ieri e l'altro, imprenditori che si sono suicidati perché si vergognavano di non poter pagare i fornitori oppure addirittura i dipendenti e quindi ecco, questo la dice lunga insomma, io non lo so. Ti vorrei fare una domanda, al di là del fatto che non so se hai sentito Aldo Forbice che è quel giornalista che fa zapping la sera su Radio 1 che ha fatto una proposta alla quale io ho aderito per dimezzare il numero dei parlamentari, dimezzare gli stipendi dei parlamentari e annullare a zero il vitalizio che hanno i parlamentari perché io credo che sia giusto che se tu fai il parlamentare cinque anni poi tu vada in pensione con quello che hai versato, se facevi l'ottico con la pensione da ottico, sbaglio. Io credo che tutte queste proposte sono giuste ed io ce ne scampio a Liberi, però... Ma perché non le accettano? Ma no, ma non le accettano perché piuttosto, io ho visto ieri sera per dire a quella trasmissione prima serata che fa Bruno Vespa e addirittura qui si sta parlando degli schieramenti che potrebbero essere anche quelli fra PD e LPD Quindi se si mettono insieme siamo rovinati Quindi non ha il senso che questi... ma già l'accordo di ieri la dice lunga L'accordo di ieri per dire sui nuovi contratti di lavoro la dice lunga perché chiaramente questi trovano la... prima di affondare Poi ti do un azico del quale parleremo la prossima settimana I finanziamenti ai partiti che poi sono passati come rimborsi Adesso hanno approvato una clausola che noi non conoscevamo Che ti rimborsano non in base a quanti vanno a votare che sarebbe giusto Per cui se io per protesta non voto tu non vieni finanziato No, prendono i soldi in base agli avventi diritti Sì, quindi tra l'altro due terzi in più di quelli che gli servirebbero Comunque l'ultima è che poi dopo ci risentiremo più in là Anche perché ci sta da bestemmiare a telecamere spente quindi L'ultima è che voi potete trovare questo bel sito che è... non so se lo troverete in internet Sì, probabilmente sì Però diciamo che è il tesoriere della Lega E quindi ecco... Bel sito più che in internet, è pieno di siti Sì, quindi c'è anche bel sito E quindi questa è l'ultima che abbiamo saputo Approfondiremo la settimana prossima Grazie a Piero Franchini Arpensa ci vuol dire aretino Usa la testa Perché è vero che siamo botoli ringhiosi ma non siamo stronzi E io mi raccomando Cercate la sorpresa dentro all'uovo E buona Pasqua Grazie a Piero Franchini